Come si tratta? Il legislatore fiscale italiano ha preso coscienza della necessità di adeguarsi a quello che è stato lo sviluppo internazionale in materia di scambio di informazioni, che è quello che ha descritto poco fa il collega, e ha preso la decisione di istituire un regime di collaborazione cosiddetta volontaria, quindi che ciascun contribuente in propria coscienza potrà decidere di praticare e che gli consentirà di sanare tutta una serie di irregolarità, che sono fondamentalmente quelle relative alla detenzione di investimenti e attività finanziarie estere. Sanare in che modo? Sanare con una modalità che non sarà più quella che abbiamo visto negli anni precedenti attraverso uno scudo fiscale, ma con una procedura totalmente diversa che prevede il pagamento di tutte le imposte e il pagamento anche di sanzioni, che sebbene in misura ridotta sono parametrate alle sanzioni ordinarie e quindi quelle previste per le violazioni che sono state compiute. Quindi il primo processo è prendere coscienza che l'oggetto collaborazione volontaria o voluntary disclosure non è nient'altro che la possibilità di pagare le tasse e anche le sanzioni in misura ridotta. Quindi non è un'amnistia, non è uno scudo fiscale, ma è appunto una modalità di regolarizzazione della propria posizione. Abbiamo detto che cos'è e in qualche modo abbiamo già accennato a chi sono i destinatari finali di questa normativa. I destinatari sono i contribuenti che hanno in primo luogo compiuto delle violazioni in materia dichiarativa, ovvero di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi di attività estere o di attività finanziarie appunto detenute direttamente o indirettamente all'estero. Si tratta per gli addetti ai lavori del cosiddetto quadro RVW della dichiarazione dei redditi, ovvero quel quadro che nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente italiano è tenuto a compilare o vedette in attività finanziarie o investimenti all'estero. Ovviamente sanare violazioni di questo tipo comporta per il contribuente anche sanare violazioni che sono più lattamente dichiarative e quindi sanare i redditi che provengono da questo stock di capitale detenuto all'estero, ma soprattutto sanare le modalità con cui questo stock si è formato. E così abbiamo in qualche modo inquadrato a tutto tondo quello che è l'oggetto della voluntary disclosure. Quindi sanare violazioni dichiarative che comprendono la detenzione di stock all'estero, le modalità con cui questo stock di capitale si è formato e ovviamente i redditi che nel corso degli anni si sono prodotti con riferimento a questo stock di capitale. Grazie 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 Grazie